Ciao Samariettini, ciao, oggi vogliamo veramente ringraziarvi di cuore perché siamo arrivati finalmente al riguardo dei 3000 iscritti, grazie a voi vogliamo veramente ringraziarvi, ciao, veramente, grazie perché dopo tre anni passati insieme non ce l'aspettavamo, noi senza il vostro supporto non siamo niente, quindi mi raccomando continuate a supportarci e a sopportarci, ciao, buona serata a tutti quanti, ciao a tutti Samariettini, ciao e buona serata a tutti cari amici, belli e cari, allora ora vi prepariamo con la Samarietta un contorno chic, delicatissimo, conosciutissimo che farete in modo molto rapido, il purè di patate, perché lo facciamo in modo rapido? Perché usiamo i bimbi, quindi adesso andiamo a vedere gli ingredienti, un chilo di patate pesate già sbucciate, 50 grammi di grana grattugiato, 400 ml di latte, sale fino, 50 grammi di burro, allora dopo aver visto gli ingredienti la prima cosa che facciamo è inseriamo la farfalla all'interno del nostro bimbi e andiamo a tagliare le patate a tocchetti, piccolini, non grossi, piccolini così, così si cuociono meravigliosamente, allora le patate le abbiamo fatte a tocchetti con la Samarietta, adesso le aggiungiamo, il sale, ci regoliamo come dice la Samarietta, quanto basta, così, il latte, completamente tutto insieme, e andiamo a metterlo nel bimbi per 25 minuti, 100 gradi, velocità 1, ecco, adesso andiamo ad aggiungergli il burro e il formaggio, così, e lo andiamo a montare per 30 secondi, velocità 3, ed ecco il nostro purè pronto, già impiattato, questo è un ottimo contorno da fare per accostarlo con qualsiasi cosa, col pesce, con la carne, con quello che volete, e i vostri amici, parenti, saranno felicissimi di gustarlo, non so, le poi vi sbrigate in un attimo, non so, le amici, ma i bambini, i bambini, ma per pure i genitori, va bene, ciao, buona ricetta a tutti, ciao!